Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. A poche ore dal suono della prima campanella in Valdarno è crollato il lazzolaio e il controsoffitto di un'aula. La scuola resterà così chiusa. L'episodio è avvenuto a San Giovanni Valdarno, un incidente in cui per fortuna non risultano persone coinvolte. Tuttavia l'intera struttura della Guglielmo Marconi domani non potrà ospitare le elezioni per l'avvio del nuovo anno scolastico. Sentiamo le parole del dirigente scolastico. È venuto giù un controsoffitto, è stato un segnale allarmante per la sede dell'ex Marconi, la sede del professionale. Noi siamo stati lì insieme ai vicepresidi e ai collaboratori scolastici e poi la provincia è intervenuta a questo punto togliendo l'agibilità perché lo stabile di fatto deve essere controllato aula per aula per renderlo di nuovo sicuro. La provincia sta operando per questo perché è la provincia che è titolare dell'edilizia scolastica per gli istituti superiori. La cosa è capitata praticamente circa 7-8 giorni fa e noi stiamo attendendo che diano una risposta. Noi ci siamo attivati per la didattica lo stesso, nel senso con gli edifici che abbiamo a disposizione, tra quelli di fatto del tecnico, chiamiamolo così, ex Galileo Ferraris che fa capo a Lisis Valdarno. Questo l'abbiamo fatto insieme, d'accordo anche con il nostro responsabile della sicurezza che è cosiddetto in acronimo RSPP. L'immobile colpito da questa situazione è di proprietà del comune di San Giovanni Valdarno e dato in uso appunto alla provincia di Arezzo, che a sua volta lo dà in utilizzo agli istituti superiori, in questo caso a Lisis Valdarno. Quindi noi stiamo attendendo una risposta e aggiornamenti dal presidente della provincia e dalla giunta provinciale e dai funzionari soprattutto. Dunque domani primo giorno di scuola in Toscana, anche gli studenti aretini sono pronti a tornare in classe e in occasione della prima campanella LFI e TFT sono pronti a mettere in campo più sicurezza sui treni. Noi porteremo circa 4.000 persone di cui la grandissima parte sono ragazzi. Era un modo per dare una tranquillità a loro stessi, alle loro famiglie e a tutti. È un passo concreto, una risposta concreta, una esigenza che noi riteniamo esserci di percezione di sicurezza. Più sicurezza sui treni che ogni giorno portano migliaia di ragazzi aretini a scuola. Da venerdì 15 settembre, giorno in cui suonerà la prima campanella, sui convogli LFI e TFT che collegano Arezzo con Casentino e Valdichiana saliranno a bordo anche i vigilantes grazie ad un accordo siglato con i vigili giurati di Arezzo. LFI nel suo complesso ha deciso di affrontare le diverse tematiche. Una di queste, abbiamo voluto subito dare anche un segnale di presenza sia nei confronti dell'utenza che del personale viaggiante, appunto sono delle persone che insomma coadiuveranno in questo senso all'interno delle carrozze e questo è un modo per essere vicino. La percezione di sicurezza è molto importante accanto al resto delle attività. Quindi diciamo abbiamo cercato quest'anno di armonizzare il treno anche con gli autobus, quindi in collaborazione con Autolinea Toscana e lavorando sempre in collaborazione con la scuola perché abbiamo cercato anche di armonizzare il più possibile da questo punto di vista tutte quelle che sono le domande. In questo siamo sempre aperti anche durante l'anno a recepire informazioni dall'utenza, dalla scuola e da chiunque istituzionalmente o meno voglia segnalarlo perché per noi è un modo anche per capire come possiamo far meglio. Da domani entrerà in vigore anche l'orario invernale e scolastico di tutti i servizi autobus di Autolinea Toscane, sia urbani che extraurbani. In seguito ai confronti avuti dall'azienda nelle precedenti settimane con gli enti deputati alla programmazione del servizio sul territorio sono previste variazioni organizzative agli orari di alcune linee. In seguito a richieste raccolte finalizzate al miglioramento del servizio. E adesso torniamo alla cronaca. A Ponticino ancora un assalto in un'azienda Orafa, un ultimo tentato furto che ha riacceso l'allarme dell'intero comparto. Il giorno dopo raccogliamo i danni, non nego che vedere distrutto quello che uno crea lascia amarezza. Sono ancora le aziende Orafa e Aretina a finire nel merino dei ladri e cresce così di nuovo la preoccupazione dell'intera categoria. L'ultimo assalto nella notte tra martedì e mercoledì a Ponticino lungo la Sette Ponti. Non è più l'episodio del piccolo furto ma appunto sembrano bande specializzate in questo tipo di assalti. Un colpo studiato nei minimi dettagli. La banda ha sfondato con un trattore rubato i cancelli e il portone principale dell'azienda ma è scattato l'allarme. Si sono dovuti arrendere a quella che è il nostro sistema di sicurezza. La loro presenza è di 3-4 minuti. I malviventi prima si sono barricati dentro sprangando il portone con delle catene. Poi si sono dati alla fuga seminando chiodi per evitare di essere inseguiti. È stato abbastanza impressionante vedere che hanno dei sistemi, insomma sicuramente nel loro operare sono preparati. Ingenti, danni, magro e invece il bottino. Non hanno porto via neanche un grammo d'oro? No, no. La stessa azienda era già finita nel mirino dei ladri tre anni fa. In quel caso i malviventi si erano calati dal tetto. In corso adesso le indagini portate avanti dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Continuiamo ad investire in sicurezza, in impianti di allarma all'avanguardia, in videosorveglianza e speriamo che uniti di riuscire a evitare che vadano a buon fine. E continua a crescere anche la preoccupazione tra i residenti in alcune frazioni aretine prese particolarmente di mira dai malviventi. A Rigutino un furto in una scuderia sventato dal proprietario. E' stato sorpreso con le mani nel sacco all'interno di una scuderia in località Nocetella proprio dal giovane proprietario ed è stato così bloccato dai carabinieri già impegnati in zona per una serie di controlli. A finire nei guai un 50enne italiano già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Da questa zona negli ultimi giorni sono arrivate molte segnalazioni per furti in abitazione che hanno portato i carabinieri a mettere in campo un'azione di controllo del territorio rafforzata, soprattutto nell'arco orario serale e notturno, dalle zone più isolate ai centri urbani. Nelle maglie dei controlli questa notte è così finito il 50enne, sorpreso a frugare all'interno della scuderia mentre accumulava trezzi dal lavoro nel tentativo di portarli via. Ad allertare i militari, il proprietario notata la presenza del ladro prontamente bloccato, recuperata e riconsegnata anche la refurtiva dal valore di circa 2.000 euro. Il 50enne è stato arrestato per furto in abitazione e giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato la misura restrittiva e disposto per lui l'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne e la presentazione quotidiana al comando dell'arma. Torniamo a parlare di Covid. La regione toscana fornisce infatti adesso indicazioni alle asle e alle aziende ospedaliere per una corretta e omogenea applicazione della circolare ministeriale dello scorso 8 settembre. Per accedere al pronto soccorso o per essere ricoverati strutture sanitarie, solo i pazienti che presentano sintomi compatibili con il Covid dovranno sottoporsi a testa per diagnosticare l'eventuale infezione. Dovrà fare il tampone anche chi dichiara di aver avuto contatti stretti con un caso confermato negli ultimi 5 giorni o chi, seppur asintomatico, si deve ricoverare o trasferire in ambienti assistenziali ad alto rischio, come possono essere ad esempio i reparti dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette o RSA. E la regione toscana ribadirlo in una nota inviata a tutte le asle e aziende ospedaliere per una corretta ed omogenea applicazione della circolare del Ministero della Salute pubblicata lo scorso 8 settembre. Dunque, i pazienti che non presentano sintomi compatibili con il Covid-19 o non sono destinati a reparti a rischio non dovranno sottoporsi a controlli. Riguardo agli ospiti che devono accedere a strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie in cui siano presenti persone fragili a rischio, la regione precisa che facoltà del direttore sanitario definire ulteriori indicazioni. Visitatori ed accompagnatori invece che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 devono evitare di accedere a tali strutture. Rimane infine l'obbligo di indossare la mascherina per lavoratori, utenti e visitatori all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura. La regione toscana infine propone di valutare l'opportunità di mantenere l'obbligo di mascherina per i lavoratori negli ambienti più esposti a rischio di contagio e già indicati nel documento di valutazione dei rischi. Lo storico ponte Buriano va in pensione ad ereditare il traffico, in questo caso anche pesante, sarà il ponte alternativo inaugurato questa mattina. Io vi devo ringraziare a nome di tutto il paese perché si manda in pensione un qualcosa che ha bisogno di riposare. L'unica cosa che mi manca andando in pensione è quelle due parti integranti che erano del paese che sono state demolite negli anni 57 quando fu costruita la diga della penna. In ogni modo un ringraziamento e un bacio al nostro ponte che va in pensione. Ponte Buriano e il ponte romanico in piedi dal 1277 e che collega Arezzo con il Valdarno si è guadagnato il meritato riposo. Ad ereditare il traffico anche quello pesante sarà il ponte alternativo terminato in tempo record, un guado di fatto che dovrà servire ad arrivare, meta ancora sconosciuta temporalmente parlando, ad un ponte definitivo. Da stamani e dunque proprio incoraggiando anche quello che sarà domani nella giornata inizio di anno scolastico abbiamo proprio scelto questa data per favorire la circolazione. Dunque a breve verrà fatto lo switch dai nostri uffici e dunque il vecchio ponte, Ponte Buriano, come è stato detto da un cittadino qui della frazione, andrà in pensione. Dunque c'è anche una parte di nostalgia, della storia, di quello che è stato, del trasporto che nei secoli possiamo dire ha messo insieme queste due rive, i due comuni Castiglion-Fibocchi e di Arezzo. Però noi dobbiamo anche guardare al futuro, lo facciamo con un ponte guado, cioè un ponte provvisorio, dunque sarà un'infrastruttura che non andrà a sostituire Ponte Buriano, ma in qualche modo dovremo nei prossimi mesi essere capaci a fare quella che era una progettazione ormai definitiva, farla diventare cantiere. Dunque si parla di un progetto di più di 20 milioni di euro, dunque noi penso saremo in grado da qui al 2027 di portarlo a cantiere. Una sola corsia e quindi senso unico alternato regolato da semafori e in caso di piena, il vecchio ponte romanico dovrà tornare in attività, ma gli esperti giurano che le probabilità sono pochissime. Una bretella è di circa 600 metri, l'attraversamento sull'Arno è di circa 100 metri, è di fatto un guado in riferimento alla normativa vigente, è a doppio senso di circolazione, il tratto di attraversamento è a senso unico alternato. Quello ha detto lei, un'opera provvisoria, un guado in caso di piena, che succede? Ci sono delle segnalazioni, c'è tutto un sistema automatico di segnalazioni per cui in quel caso quando i piazzometri andranno a indicare che è raggiunta quella quota verrà ripristinato soltanto in quelle occasioni il ponte storico con le attuali limitazioni e quindi soltanto in quelle giornate verrà ripristinato il ponte storico con le limitazioni che ci sono attualmente. E dai residenti un appello importante, oltre alla costruzione del nuovo ponte definitivo per quello ci vogliono circa 21 milioni di euro ancora da trovare, che non si dimentichi il restauro del ponte romanico. Se si guarda questo ponte storico è in condizioni da fare una valutazione seria e concreta perché mandarlo in pensione, poi le cose che si mandano in pensione si lasciano lì rischiano di deteriorare molto prima che si sono utilizzate. Riaperto il bando nidi gratis con cui la regione toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini e bambine dai nidi di infanzia agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti familiari. La nuova scadenza per i comuni e le unioni di comuni è quella del 29 settembre. Le famiglie invece possono presentare le domande dalle 9 del giorno 5 ottobre alle 18 del 27 ottobre 2023. E un'altra iniziativa dedicata ai più giovani, in questo caso ad Arezzo. Domenica 17 settembre infatti la Centro Giovani Adolescenti New Factory di Via Masaccio ospiterà la seconda edizione del Comics and Game, un evento interamente dedicato ai fumetti e ai videogame passando per giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo e esibizioni di cosplay ma anche cibo, musica e tanta voglia di stare insieme. L'ingresso anche quest'anno è totalmente gratuito. Voltiamo pagina adesso, questa sera dopo il TG, andrà in onda un docufilm su una delle pagine più nere della storia recente a Retina, una pagina purtroppo per tanti anni dimenticata. Il campo di internamento di Renicci, una docufilm che andrà in onda ad 80 anni dalla sua chiusura. A realizzarlo allo web sentiamo il suo direttore David Faltoni. Ben trovati, è davvero un piacere per noi, per Arezzo TV e quindi lo dico anche e soprattutto come direttore responsabile ospitare nella nostra programmazione un docufilm, un docufilm realizzato da una testata giornalistica che si chiama Allo Web, quindi vi presentiamo il suo direttore che è David Faltoni ma insomma per noi è uno di famiglia e spero anche per chi ci ascolta dall'altra parte. Ecco David, un docufilm che ripercorre quale storia? Una storia della quale quest'anno, proprio nel 2023, ricorrono gli 80 anni? Allora sì, lo mandiamo in onda proprio il giorno della chiusura del campo di Renicci che abbiamo voluto anche chiamarlo Lager per rendere più chiaro quello che è avvenuto lì dentro e quindi nell'Aretino ad Anghiari, nella campagna di Anghiari dall'estate 42 all'estate 43 è stato realizzato un campo di internamento, un campo di enorme sofferenza per migliaia di persone e questo campo per tanti tanti anni è stato dimenticato, volutamente dimenticato da tutti solo recentemente, quindi alla fine del secolo scorso si è cominciato a riparlarne e poi negli ultimi tempi alcuni scrittori, alcuni storici si sono dedicati a scoprire questo campo più abbiamo il museo a Sansepolcro della Resistenza che conserva tutta questa documentazione e quindi noi abbiamo ricostruito dalla costruzione del campo alla vita nel campo agli obiettivi di chi aveva realizzato questo campo e le conseguenze, quindi si parla di decine e decine di morti per fame, stenti e malattie, persone fatte vivere un intero inverno, te penso a Greta erano stati arrestati d'estate, avevano i vestiti estivi, pantaloni corti, una maglina e una camicia hanno passato tutto l'inverno a Renici in quelle condizioni, un ambiente umido, senza riparo perché vivevano in delle tende di stoffa, quindi un ambiente veramente disumano, un ambiente di sofferenza di dolore che speriamo con il nostro contributo di conservare la memoria di quello che è successo e che non abbia più a succedere e ricordiamoci che gli italiani non sono stati brava gente come spesso si vuol dire, così come spesso si è detto che il fascismo ha fatto cose buone noi lo faremo vedere, non è stato fatto nulla di buono, disorganizzazione eccetera eccetera comunque dovete guardare il docofilme perché scoprirete tutto questo e grazie anche alla collaborazione vostra perché se no non era possibile realizzarlo, quindi è un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e io mi auguro che poi sia anche visto e fruito all'interno delle scuole perché il nostro vero obiettivo è quello Ecco un lavoro ovviamente che è stato fatto anche in collaborazione con Ampi, poi vi daremo insomma anche notizia di quando sarà presentato ufficialmente proprio alla cittadinanza Allora in onda su Arezzo TV il 14 di settembre ovviamente dopo il nostro telegiornale e quindi buona visione Buona visione Passiamo alla pagina dello sport, al calcio La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato fino a tutto il mese di ottobre I Amaranto dunque dopo il turno infrasettimanale di martedì prossimo con l'Olbia giocheranno tre volte di lunedì sempre alle 20.45 e sempre in casa Il 9 ottobre con il Cesena, il 23 con la spalla e il 30 con il Gubbio Una sola gara in programma di domenica, quella del 15 ottobre a Recanati Giovedì 26 invece trasferta ad Ancona E dopo la Coppa Italia anche il campionato vedrà l'esordio contro il Ravenna dell'Arezzo calcio femminile A Castiglion-Fibocchi La società Amaranto infatti comunica lo spostamento di campo per la gara inaugurale del campionato contro il Ravenna L'incontro si svolgerà dunque sul manto erboso del comunale di Castiglion-Fibocchi mantenendo invariato l'orario del calcio d'inizio, ossia le 15 E un'importante test amichevole invece è andato in scena al Palac Corzoni di Siena dove l'Amen BC Servizi si è confrontata con la stosa Cucine Virtus Siena Gli Amaranto non hanno demeritato nella prima fase di gara hanno condotto a lungo la sfida, poi hanno subito un parziale nel terzo quarto che ha indirizzato la gara a favore dei padroni di casa La SBA ha recuperato nel finale arrivando a due punti e mezzo dalla fine a sole quattro lunghezze dagli avversari che sono stati però più precisi nei possessi finali respingendo la rimonta dell'Amen La SBA tornerà in campo martedì 19 settembre alle 20.30 al Palas Portestra dove arriverà il Val di Sieve formazione di Serie C però prima gli Amaranto saranno presentati ufficialmente alla stampa e ai tifosi il prossimo sabato Questa per stasera era l'ultima notizia Vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci